Grazie a tutti. Tre premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte, il campione dell'Inter Esteban Cambiasso, che ha trionfato nella categoria New York Talent Calcio in TV. Gruppo Danone, tutti sul palco. Per ripassare da Red Carpet e andiamo a leggere il perché di questo premio. Vediamo, stamattina... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie davvero. Io in questa foto vedo un uomo felice. Credo che il paradiso Danone è molto simile. In senso, lo dico per noi, che per loro sarebbe un inferno, hai capito? Scherzo. Foto. Che bel team, eccoli qui. Davvero. Grazie mille, davvero. Complimenti a Gruppo Danone. All'altro premiati proprio, questa mattina sono state premiate le aziende, le prassi molto attenti all'ambiente, donne, vi dicendo. Sonia Malaspina, direttore HR del gruppo Danone e riceve quest'anno il riconoscimento HR Team dell'Anno Settore Alimentare. Allora, intanto mi piacerebbe avere un commento rispetto a questo riconoscimento. È un'azienda che ne ottiene tanti perché voi siete davvero un vero e proprio benchmark per quello che riguarda il tema della conciliazione vita professionale e vita lavorativa dei vostri dipendenti. E quindi un'altra medaglia al petto che cosa vuol dire? Significa un riconoscimento molto importante ed è un riconoscimento di uno sforzo collettivo. Danone ama premiare al suo interno proprio il successo collettivo, il successo fatto dai team e non dalle individualità. E quindi questo è un premio molto in linea anche con i nostri valori aziendali. Lei ha avviato, inizialmente l'ha fatto in Mellin e poi avete esteso questa iniziativa anche alle altre imprese di Danone, la Parental Policy Gender Neutral. Di che cosa si tratta? Che cosa si propone? Sì, otto anni fa abbiamo lanciato questa Parental Policy che poi è diventata la Parental Policy di tutto il gruppo Danone nel mondo, quindi un orgoglio italiano e sono una serie di regole di tipo organizzativo, di supporto economico e di aiuto anche culturale per aiutare i genitori, mamma e papà, a rientro, soprattutto le mamme a rientro dalla maternità, a conciliare la vita lavorativa con la vita familiare. Le faccio un esempio, 10 giorni di paternità retribuita, un supporto, un raddoppio del contributo di maternità facoltativa per tutte le mamme che ci hanno dato, dopo 8 anni, eccellenti risultati. Abbiamo il 100% delle mamme che rientrano nel posto di lavoro, abbiamo una percentuale di manager femminili, donne superiore al 45%, e soprattutto il dato più importante che abbiamo analizzato negli ultimi due anni, del totale promozioni, il 40% è andato a donne a rientro dal congedo. E quindi questo dimostra che la maternità, come pure la paternità, sono un valore non solo per la persona, non solo un valore per la comunità, ma un valore per l'azienda. Certo. Lei ci ha spiegato prima quali sono i valori fondanti di queste iniziative che intraprendete appunto per il vostro gruppo. Abbiamo capito anche quelle che sono le ricadute interne poi di queste iniziative. Esterne invece quali sono? Che tipo di visibilità può avere? Che tipo di ricaduta verso l'esterno? Anche in termini reputazionali hanno queste iniziative. Beh, posso citare un esempio molto recente. Sono stata invitata a Ginevra in occasione del centenario di protezione della maternità nei posti di lavoro, dall'organizzazione delle Nazioni Unite Don Women, United Nations Women, da UNICEF, World Health Organization. Danone era l'unica azienda. Il caso italiano è stato l'unico caso aziendale presentato di fronte a 200 policymaker provenienti da tutto il mondo. Con le nostre metriche, con quello che abbiamo dimostrato, siamo un caso unico. E quindi questo dà sicuramente un grande riscontro di tipo reputazionale all'azienda, ma soprattutto mette veramente al centro le persone. Quindi penso che contribuisca al benessere, all'ingaggio interno delle persone, ma crei anche una forte reputation a livello di azienda, perché ormai i nuovi consumatori scelgono un prodotto non solamente per il prodotto in se stesso, ma guardano anche all'eticità dell'azienda, al trattamento dell'azienda nei confronti della comunità, dell'ambiente. Anche questo è un fattore ISG, se vogliamo, no? Un po' in linea con tutto il tema della sostenibilità, del quale tanto discutiamo di questi tempi. Lei è comunque sempre direttore delle risorse umane. Sì. Con quali criteri valuta un candidato che deve venire nella vostra azienda? Sì, allora noi guardiamo, facciamo degli assessment e soprattutto andiamo a identificare, al di là delle competenze tecniche, delle caratteristiche intrinseche che sono lo spirito imprenditoriale. La nostra azienda è una multinazionale, ma è anche un'azienda che valorizza molto la strategia locale. Tutte le strategie vengono calate nei paesi, c'è una forte valorizzazione della cultura e quindi abbiamo bisogno di persone estremamente intraprendenti, estremamente creative e dinamiche che challengano lo status quo. Quindi queste sono le caratteristiche che andiamo a ricercare nei candidati. E invece le caratteristiche richieste in questo particolare momento, anche che vive il mondo del lavoro e il mercato del lavoro, ad un direttore delle risorse umane, appunto come ne vede anche il futuro rispetto a questo profilo che lei occupa in maniera così significativa, se vogliamo, all'interno di questo gruppo? Io ho visto questo ruolo trasformarsi negli ultimi vent'anni. Quindi era un ruolo che all'inizio era meramente di esecuzione, di implementazione di strategie, deciso a un tavolo a cui non ci si sedeva. Invece progressivamente noto che la figura del direttore risorse umane deve proprio aiutare la direzione aziendale a definire le strategie che passano sicuramente dall'ingaggio delle persone ma anche dalla comprensione di quello che sta avvenendo nella società attorno a noi. Quindi parlo per esempio della valorizzazione delle diversità che diventa un elemento estremamente importante se non si comprende come sta evolvendo la società attorno a noi e non si fa qualcosa all'interno del proprio posto di lavoro per riflettere quel cambiamento che sta avvenendo. Pensiamo alla digitalizzazione. Questi sono tutti grandissimi interrogativi. Io otto anni fa, ricordo l'amministratore delgato e del Tempio, abbiamo fatto una scommessa. La scommessa ai Tempio è stata valorizzare il lavoro femminile e fare in modo che le donne rientrassero dalle maternità e soprattutto avessero una carriera in azienda. Perché se non l'avessimo fatto ci saremmo persi un bacino di competenze fortissimo. Questa scommessa oggi l'abbiamo vinta con il 45% di manager femminili. Dove sarebbe l'azienda oggi se non avessimo quel contributo? Che magari con politiche diverse non avremmo accolto il rientro delle donne dalla maternità o comunque proprio una questione di pari opportunità. E quindi il direttore personale deve porre sul tavolo della direzione queste sfide. Deve scommettere sul futuro. Io penso che dovremmo poi muoverci su altri tipi di diversità. Questo è solamente il primo passo, la diversità di genere. Ma vinta questa battaglia penso che le altre saranno facili. Sarà naturale vincere. Grazie in bocca al lupo per tutto. Grazie.